Un ospite d'eccezione all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Ieri Angelina Jolie è stata al Bambino Gesù per incontrare i bambini ucraini arrivati in Italia a causa del conflitto, i medici e gli infermieri che si prendono cura di loro. Sto pregando per la fine della guerra. Questo è l'unico modo per fermare la sofferenza e la fuga dalle zone del conflitto ha detto l'attrice 46enne, è orribile vedere bambini che ne pagano il prezzo, invite perse, salute danneggiata e traumi. La sua visita, si legge sul profilo social dell'ospedale pediatrico, è avvenuta proprio nel giorno in cui l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha confermato che in un mese sono stati 4 milioni gli ucraini fuggiti dal loro paese, rendendo questa la crisi dei rifugiati con la crescita più esponenziale della seconda guerra mondiale ad oggi. Altri 6,5 milioni di persone sono state sfollate all'interno del paese. Grazie per essere passata a trovarci, è il commento dell'ospedale. Se il video è stato di vostro gradimento lasciate un commento e iscrivetevi al canale per altri episodi.